Bentornato Presidente, l'è mancata Firenze? Sì, ma tu sei faccia nuova, no? Da poco, una settimana. Brava, congratulazioni, spero che fai bene, bocca al lupo, come dice in italiano, bocca al lupo. È arrivato da poche ore, ma sia lei che sua moglie siete già qui allo stadio a vedere la sua Fiorentina. Le mancava molto lo stadio? Sì, la squadra, i ragazzi, ancora non ho incontrato Brandelli, voglio andare a vederlo, stare più vicino alla squadra. Ancora una volta trova lo stadio vuoto, senza tifosi, vuole dirgli qualcosa, vuole salutarli? Vedo che ci sono pochi tifosi fuori, è un peccato che questi ragazzi, i nostri tifosi, non possono aiutare la squadra come dovrebbe essere. Qui a Firenze, no? Perché io credo che i tifosi fiorentini sono numero uno di quello che ho visto io e di sicuro ci mancano. E ci mancano la squadra. Grazie. Ok, grazie.